Queste due foto sembrano la stessa persona, ma in realtà no. La prima foto è quella di Enzo Ferrari, pilota di corse e fondatore di Ferrari. L'altra foto è un giocatore di calcio turco, ma la cosa incredibile è che Enzo Ferrari è morto nel 1988, cioè l'anno in cui è nato quel giocatore di calcio.